Comunque è bello queste serie che adesso stai guardando 13 lo stai guardando? Che te la pensiero? No, se com'è ti piacerebbe Oh, perché l'idea? Di cosa? Di cosa le fa? Adesso spoilerò, ma in realtà non dico il finale è una ragazzina che si suicide e lascia il racconto perché si suicidava in 13 ma è stato già un video su due tisole come? A vero, a vero, a vero, a fare la fine all'emore e si si e come andare a vedere un film sul Gesù Nudo, nudo, via Antonio non hai le cuffie guarda le cuffie si ma quanto tu non saperlo? Siamo negli anziani 6 minuti e lo so altre cose mi piace Fargo Fargo è bello ma stai vedendo la terza? è iniziato la terza è bello le serie che parlano dell'Italia a me mi appassiona è un vissuto che tu hai poi tutte quelle lì tutte le straniere che subiamo dall'estero le guardiamo perché madonna ho visto Twin Peaks come si ripara non mi stanno non mi stanno non mi stanno è molto discusso alcuni dicono che è un capologolo io sono mega fan ho anche tatuato la tipa che muore nella prima serie mega fan voi non ce la vedi da quanto? hai appena fatto da una decennia anni fa due se ne fanno da una contemporanea con la Mary io lo guardo che è l'immigro originale cioè David Lynch è proprio posso dirti una cosa terribile non ricordi Twin Peaks sai che noi abbiamo rimbalzato due inizio per il tourista è la cosa di cui ci pentiamo di più io ho rimbalzato Eminem andiamo a salto fuori i tre più furbi siamo noi ma no perché pensavamo che fosse troppo ma tra l'altro lui aveva due personaggi per un cameo due napoletani per un altro non ci ha presi più e non ci ha più presi no purtroppo non è vero però mi si occhia di la sole dava la vergogna diciamo è solo dico qualca miseria qualcosa avresti impalato